Siamo oggi con gli amici del San Costanzo Show, qui negli studi di Rossini TV, a pochi giorni dalla chiusura di un tour teatrale davvero di successo, quello con Nessomare di Battaglia. Sì, è andata alla grande, tanto che faremo anche delle repliche, a Fano il 17 marzo e a Pesaro il 24 marzo. Ma nemmeno il tempo di chiudere il sipario che si va al cinema con Non aprite quella sporta, sappiamo di questo film ma sappiamo poco altro. Sì, vogliamo svelare poco, vi aspettiamo al cinema, il 16 a Fano, al Teatro Politeama, il 16 e 17 Cinema Teatro Politeama e poi il 18 qui a Pesaro al Teatro Sperimentale con due proiezioni, 19 e 15 e 21 e 15. Ma chiediamo a Daniele Santinelli se può offrirci qualche anticipazione ma credo di no. No, 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 non credo, è fantastico. No, no, Santinelli vuole svelare la trama, io vi posso dire che ci sono i classici personaggi del San Costanzo Show, nuovi personaggi, ognuno di noi ne interpreta anche tre o quattro, è un giallo comico ma non possiamo svelare la trama. È colpevole, è colpevole. Non si può, non si può, non si può, non si può svelare, se vuoi puoi dire che abbiamo dei film, puoi lanciare. Vabbè, posso dire che, vi volevo dire che abbiamo già fatto un'anteprima del film con tante persone, diciamo, importanti che sono venute a vederlo e vi facciamo vedere un pochettino le prime impressioni di chi è uscito dal cinema, ecco, in questi giorni. Sono qui al cinema e sta per uscire il pubblico della prima nazionale del nuovo film del San Costanzo Show, Non aprite quella sporta, quindi adesso andiamo a sentire dei commenti a caldo. Signora, signora, ti è piaciuto il film? Sì, ma scherzi, bellissimo, è vero? Ci ha fatto tanto ridere, per passare un'oretta e mezzo, un'oretta e tre quarti, quello che è, è vero? È andato anche ai giovani, è vero che ti è piaciuto? Andiamo a mangiare la piada? È bello, è bello, andate. Quindi l'ha fatta ridere? Sì, ma forti, sei forti. Però c'erano anche degli spunti di riflessione, no, in questo film? Ah no, non l'ho visto quello. Ma far ride, far ride. Ma sì, fanno ridere, sono comici loro. Cosa fa ride? Ma come? Ma sì, sono comici. Ma non capire. Cosa fa ride? Ma cosa fa ride? Ma fanno teatro come? Ma te la metti. E poi vi aspettiamo al cinema, dalle 16, in tutti gli schermi del mondo. Dalle 16 di che mese, scusa? Di febbraio, e poi qui a Pesaro, il 18 al teatro sperimentale. Ma il delitto, volevo dire, che era... Vi aspettiamo, al cinema, non aprite quella sporta, San Costanzo Show, il nostro nuovo film. In anteprima, il sito del film. Ma il colpevole, però, è importante, che volevo dire che questo... SanCostanzoShow.com Tutte le date e le informazioni. Ciao, 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 ciao.